Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la 2 cavalli Charleston, Citroen in scala 1 a 8, edizione di Agostini, uscita numero 51. Come avete potuto vedere anche dall'unboxing di questi cinque numeri che vanno dal numero 51 al 55, ho già dato possibilità a chi lo desidera di poter dare non soltanto visione alle immagini ma poter dare anche lettura ai contenuti scritti. Quindi andiamo subito a vedere quello che troviamo in questo numero. Vi dico subito che non montiamo nulla ma non ci sono problemi. Andremo poi ad assemblare questa parte del silenziatore con l'uscita numero 52. Seguitemi perché andrò poi a preparare anche gli altri video. Troviamo la parte anteriore del tubo di scarico che è questa. Questa parte qui poi andrà inserita nel collettore, questa poi fissata sul pianale dell'auto e poi abbiamo la parte inferiore e superiore del silenziatore centrale. Ecco, non vi potete sbagliare perché soltanto in un modo potrete assemblarlo, in quanto se questo lo ruotiamo così non vi sarà possibile. Vedete che spunta qui e qui. Ok, vedete? Quindi non vi potete sbagliare. Io poi quando andrò a montare questo pezzo, qui abbiamo il punto dove hanno staccato queste due sezioni, quindi ecco è antiestetico, io lo farò andare nella parte inferiore dell'auto così qui a vista sarà bello anche se comunque parliamo di una parte sotto l'auto. Questo poi andrà montato così ma lo vedremo meglio nel dettaglio nell'uscita successiva. Ecco, andrà messo così. Ecco qui. Intanto volevo anche ringraziare tutti voi che siete i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Ricordando a quelli che ancora non sono iscritti, sempre che ne abbiano il piacere, non costa nulla a voi ragazzi, a me serve tantissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. in questa immagine che poi andremo a completare in realtà con l'uscita numero 52 vedo che qui è già stato montato il paraurti anteriore, a noi ancora non ce l'hanno fatto montare, nessun problema lo monteremo successivamente. Che altro posso dirvi? Ah sì, controllatevi gli elastici all'interno dei sedili, magari anche sfilando un attimo la protezione in tessuto e accertatevi che non ve ne siano dirotti perché facilmente questo potrebbe accadere. Stavo pensando cosa posso dirvi ulteriormente. Adesso comunque prima di salutarci andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 51. Se mi viene in mente ve lo dirò poi mentre preparo tutto quello che ci serve. A dopo. Ed eccoci qua. Questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio numero 51. Abbiamo aggiunto semplicemente questo che l'ho appoggiato, non va avvitato perché prima dovremo mettere l'altro pezzo che andremo a montare nell'uscita numero 52. Un attimo che sto cercando di dare più luce all'immagine. Non ce la faccio. Va beh. Questa è la parte anteriore poi del tubo che andrà a fissarsi sul collettore dell'auto. Ecco qua. Guardate che bello. Sì in effetti dovevo continuare la frase ma stavo pensando a che tipo di targa personalizzare. Se scrivere se ci stesse Charleston oppure Citroen due cavalli senza mettere alcuna targa. Vedremo. Tutto metallo perniciato bellissimo. Questa è la parte basculante del finestrino. Guardate che meraviglia. Cerniera in metallo porta in metallo. Le aperture sono fisse. Sono puramente estetiche ma sono molto belle. Questa è la parte interna della nostra portiera. Plus scotto. Chiave con la parte finale in metallo grazie alla quale creerà il contatto all'interno semplicemente per inserimento. Ricordatevelo. Non va girata la chiave. Si inserisce, crea il contatto e darà la funzione dedicata. Questi due tubi che andranno poi messi all'interno qui dove c'è il condotto di aspirazione uscendo dalla protezione dei parafanghi anteriori. Sedire tutto in tessuto, metallo verniciato, elastici ed è questi ai quali mi riferivo prima. Quando vi dicevo controllate anche sotto che non vi siano saltati degli elastici, perché vi si possono anche rompere come vi ho spiegato nei video precedenti. Paraurto anteriore, tutto verniciato in plastica, bellissimo, riprodotti anche i due rivetti. Il pianale, sul quale andremo anche a lavorare nei prossimi numeri. Eccolo qui. Queste sono le guide dei due sedili anteriori. E questa è tutta la parte del motore. Pensate solo a che lavoro per fare il progetto. Questo per rispondere a tanti che dicono che il modello costa troppo. Io non sono d'accordo. Il modello, per come è stato riprodotto, i soldi li vale tutti. Se considerate che poi andiamo a pagarlo ad 11 euro alla settimana, è una spesa che non tutti possono permettersi perché ci sono altre priorità nella vita. Ma certamente tanti vorrebbero prendere dei modelli più blasonati, ma lì i soldi te li chiedono subito. Questo vi posso garantire che è un modello fatto davvero bene, con dei materiali di pregio. Fino adesso tutto è andato correttamente bene. Parlo per quanto riguarda l'accoppiamento delle plastiche, così come del materiale metallico. Poi vedremo successivamente. Ma ci sta nel modellismo è così. Per chi fa modellismo è così. C'è sempre da intervenire ed è anche quella la cosa bella, perché comunque i problemi, qualora anche si presentassero, sono tutti risolvibili. Ecco qui. Bene ragazzi, io adesso, con questa immagine che sembra più una demolizione che una rappresentazione del modello, vi ringrazio del vostro tempo. Saluto a voi e tutti i vostri cari e più cari. Grazie di visualizzarmi. Mi raccomando, se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, non saltate la pubblicità quando compare la scritta salta annuncio, preparatevi un buon caffè, che sarà mai... però non mi saltate gli annunci. E se avete piacere anche di condividere nei gruppi dedicati i miei video, non potrò che ringraziarvi ulteriormente. Ciao ragazzi, al prossimo video, mi raccomando, non mancate. Adesso vado a fare gli altri quattro. Seguirà il numero 52, 53, 54 e 55. Poi andrò a preparare il video della lanciastratos e poi successivamente andrò anche a presentarvi il nuovo unboxing di Robocop, il cyborg, che è poi Alex Murphy, un grande personaggio che abbiamo gran parte di noi di una certa età amato e amiamo. Ciao ragazzi!